Ieri presso l'aulamagna del polo universitario imperiese, le classi dell'Istituto Ruffini d'Imperia, prima agraria, terza agraria, prima geometri, terza geometri, quinta geometri AIB, hanno partecipato all'incontro con la scrittrice Italo-Eritrea, Erminia dell'Oro, la prima importante rappresentante della letteratura di scrittrici di immigrazione o di seconda generazione provenienti dal corno d'Africa. La scrittrice ha fatto del rapporto tra l'Eritrea e l'Italia uno dei temi principali della sua narrativa e i suoi libri sono stati tradotti anche in tedesco. Gli alunni Manuel Frugoni, Giulia Galletti, Anna Calvi, Virginia Viani ed Eleni Morese hanno dato vita ad un reading letterario, leggendo ad alta voce alcuni passi tratti dal libro Il mare davanti. Da tre mesi le classi, preparate dalle loro docenti di lettere Daniela Tallone, Marina Oliva e Francesca Rotta Gentile, hanno letto e lavorato sul libro, analizzandolo sia dal punto di vista lessicale sia contenutistico.